benvenuti in questo nuovo tutorial di vetrina live in questo video andremo a vedere come si ottiene il client id o se preferite l'id cliente di paypal da inserire nel pannello amministrativo della vetrina in questo modo potrete abilitare i pagamenti online e i vostri clienti al momento dell'ordine potranno effettuare direttamente il pagamento per ottenere il client id è necessario innanzitutto possedere un account paypal business se non avete ancora un account paypal business vi consiglio allora di visualizzare prima il tutorial su come creare un account paypal business se invece siete già in possesso di un account paypal business la prima cosa da fare è quella di effettuare l'accesso su paypal andremo ad inserire username e password effettuando l'accesso accederete alla schermata principale del vostro profilo che è simile a quella che vedete in video da qui clicchiamo in alto a destra su sviluppatore la schermata che si apre purtroppo è solo in inglese ma niente paura mancano pochissimi click per terminare la procedura basterà passare infatti sul nome del vostro profilo in alto a destra e si aprirà questo menu a tendina e cliccheremo su dashboard in questa nuova pagina vedremo questa selezione tra sandbox e live questo passaggio è molto importante perché bisogna selezionare live dopodiché cliccheremo sul bottone create app vi verrà chiesto di scegliere un nome e potrete inserirne uno a vostro piacimento io ad esempio inserirò ricezione pagamenti vetrina live dopodiché confermeremo e in questa nuova pagina che si è aperta visualizzeremo il client id basterà quindi fare il copia di questo codice e tornare al pannello amministrativo della propria vetrina basterà inserire il codice nel campo id cliente dopodiché la vostra vetrina sarà automaticamente abilitata al pagamento online spero che il video sia stato d'aiuto come avrete visto la procedura nonostante i vari passaggi è molto semplice grazie per l'attenzione per l'attenzione